Buonasera a tutti ragazzi da Paolo Inter, questa sera parleremo di un paio di argomenti appunto come avete visto la copertina iniziale parleremo subito di Europa League, della nostra prossima avversaria d'Europa League dei sedicesimi che sarà in RapidVienna e poi dirò due cosette su diciamo le ultime due argomenti che ci riguardano a livello di Inter che sono le dichiarazioni di Wanda Nara e appunto l'esonero di Giuseppe Mourinho. L'Europa League, niente, l'accoppiamento che c'è, la squadra che affronteremo a febbraio sarà i RapidVienna, una squadra austriaca che incontrammo nel lontano 90-91, un'edizione della Coppa UEFA che tra l'altro vincemmo per, vincemmo e fu la nostra prima Coppa UEFA in finale contro la Roma, la doppia finale contro la Roma perché allora c'è la doppia finale e quella era l'Inter del Trap, dei Pants, dei vari Matteus, che lì era un Inter molto forte che poi era reduce dallo scudetto dei record, se vi ricordate bene, e quindi quella nata lì fu una nata molto prestigiosa per noi perché comunque vincemmo la Coppa UEFA, i RapidVienna lo incontrammo nel primo turno e a Vienna perdemmo per 2 a 1, se non erro, e poi dopo ribaltammo il risultato, le ragazze ribaltarono il risultato, 3 a 1, 2 a 1 nei tempi parlamentari, poi c'è fu il 3 a 1 di Kliesmann nei tempi supplementari che ci fece poi passare il turno e così eliminammo i Dioostriace. Se non ricordo male, nel 2 a 1 di Milano del ritorno la doppietta la fece Nicolino Berti e poi il gol del Rapid, sinceramente non me lo ricordo perché il signor del Rapid, comunque la doppietta fu di Nicolino prima del gol di Kliesmann dei supplementari che appunto ci diede il passo per per andare avanti. Il Rapid è una squadra direi abbastanza abbordabile, non dovremmo avere dei problemi a batterli e a superarli, quindi è una squadra che ha due o tre alimenti buoni, come dicevo tra cui c'è il capitano che si chiama Stefan Schwab che è capitano della squadra e il capo cannoniere che si chiama Klein Müller che tra l'altro curiosamente fu un nostro primavera, giocò nella primavera degli altri, quindi un trequartista e un giocatore comunque che è capocannoniera di questa squadra di Rapid e di questa squadra austriaca con certe reti. Il Rapid in campionato nella massima divisione di divisione austriaca naviga in acque non tanto buone perché è posizionato all'ottavo posto su 12 squadre posizionato all'ottavo posto in classifica a meno 28 dalla capolista che è Salisburgo che tra l'altro giocherà anch'essa nell'Europa League. Lo stadio del Rapid è l'Arian Stadium, uno stadio di 25 mila circa posti, quindi non è uno stadio grandissimo e questa squadra austriaca nella sua storia appunto non ha mai al di fuori le proprie confine nazionali, non ha mai vinto trofei importanti o prestigiosi, ecco, del tipo delle Champions o delle Coppe intercontinentali, mondiali per il greco o delle Supercoppe europee. All'attivo ha vinto all'attivo nel suo palmarale ci sono 32 titoli nazionali, una Coppa di Germania, qualche Coppa nazionale di Lega austriaca e poi ha vinto due Mitropi Cup. Quindi squadra comunque che non ha un grande blasone, non è chiaramente paragonabile all'Inter, quello che abbiamo vinto noi non è assolutamente paragonabile al nostro blasone. Però comunque una squadra da rispettare, una squadra che sicuramente farà dell'agonismo la sua forza, quindi non dobbiamo sottovalutarla, dobbiamo affrontarla come affrontiamo tutte le squadre e dobbiamo cercare di batterla, ecco, perché comunque dobbiamo onorare questa competizione, assolutamente, e dobbiamo arrivarci fino in fondo. E se si vincesse anche la Coppa sarebbe anche un bel risultato, ecco, come poi dobbiamo onorare anche la Coppa Italia, intendiamoci, quindi le competizioni che ci restano, visto che purtroppo siamo usciti da Champions League, bisogna onorarle fino in fondo e non bisogna assolutamente snobbarle come abbiamo fatto negli anni passati, ecco. Volevo aprire una piccola parentesi sulla Mitropa Cup, la Mitropa Cup ovviamente non è una Coppa prestigiosa, però fu famosa, è una Coppa che fu molto importante, la sua importanza è dovuta soprattutto agli anni 30, negli anni dell'Ambrosiana, dell'Ambrosiana, del mitico Pepin Meazza, e quindi una Coppa che ha una storia nobile, questa Mitropa Cup, però poi diciamo che con la creazione delle Coppe, della Coppa dei Campi, negli anni 50, con l'avvento della Coppa dei Campioni, della Coppa delle Coppe, eccetera, eccetera, fu accantonata come Coppa, si chiamava Coppa dell'Europa Centrale, la Mitropa, originalmente, e giocavano delle squadre più rappresentative italiane e quelle più rappresentative dell'Est Europa, specialmente squadre ungheresi, con Slovacchia, eccetera, eccetera. Gli anni 30, appunto, era molto famosa questa Coppa che poi appunto con l'avvento di queste Coppe, appunto, come stavo dicendo, fu accantonata e poi fu praticamente la rivalutarono negli anni 90, anni 80, anni 90, però era prerogativa di squadre minori, infatti la vinse, la vinse la squadra piccola piccola, forse, il Milan, chi vinse la Mitropa Cup, forse tra queste era la squadra forse più blasonata tra tutte queste, anche perché le altre italiane hanno tipo squadre, tipo come l'Asco, il Torino, il Bari, come squadre minori, squadre piccole, e quindi, sostanzialmente, la Mitropa è una coppetta, non è una coppa, diciamo, di un certo prestigio, paragonabile a quelle europee per club delle competizioni attuali che ci sono in Europa. Ultima cosa su Rapid, Rapid, su Vienna, scusate, discorso di Vienna, Vienna evoca storicamente dolci ricordi, per noi interisti, perché a Vienna noi, nel lontano 64, la grande Inter di Elenio Herrera e di Angelo Moratti vinse proprio a Vienna, al Prater di Vienna, la prima Coppa dei Campioni della sua storia. Battemmo quella sera il grandissimo, direi, Real Madrid, il Real Madrid era fortissimo in quegli anni, vinse, tra l'altro, il 5 Coppa dei Campioni consecutive, era il Real Madrid di Guento, Kuskas ed il grandissimo di Stepano, che forse era il giocatore più forte di quei tempi e il più rappresentativo. Quindi la grande Inter il battè per 3 a 1 quella sera con doppietta di Sandro Mazzola e gol di Milani, il Real Madrid lo battè come outsider, come squadra comunque, diciamo, di cui si pensava che non riuscisse a vincere, nel senso che era una squadra sfavoritissima l'Inter rispetto al Real, invece sovvertì la cabala e i pronostici, vincendo 3 a 1 e battendo il Real Madrid, e di lì nacque comunque la grande Inter, che poi dopo si consacrerà in Italia e nel mondo, vincendo diversi scudetti, la seconda Coppa dei Campioni e due Coppi intercontinentali. Poi volevo aprire una breve parentesi su... Quindi noi giocheremo, scusate, giocheremo con il Rapid Vienna a febbraio, appunto nei sedicesimi, esattamente l'andata la giocheremo a Vienna, appunto in questo Allianz Stadium, il 14 o il 15 di febbraio, e il ritorno lo disputeremo a Milano, a San Siro, il 21 o il 22 sempre di febbraio. Le altre italiane che sono state sorteggiate sono la Napoli, che giocherà contro lo Zurigo, e poi la Lazio, che forse ha l'impegno più importante, perché comunque è la squadra che forse è tecnicamente più forte rispetto a Rapid e Zurigo, che è il Sibiglia, che comunque potrebbe anche dare dei fili da torcia ai laziali. Quindi diciamo che fra le tre forse la più sfortunata è stata la Lazio, a livello di sorteggio, anche se c'è da dire che le prime due, noi e Napoli siamo testi di serie, mentre la Lazio è una seconda, quindi forse era da mettere in preventivo che potessi incontrare una squadra, diciamo una squadra forte, quindi essere sorteggiati da seconda, una cosa poi implicitamente si arriva poi alla conclusione che l'accoppiamento con la squadra forte c'è, quindi c'è proprio l'affare. Sul Rapido detto tutto, sul nostro prossimo punto di impegno dei sedicesimi di Coppa d'Europa League, apro un paio di parentesi, una su Vandanara, che purtroppo non perde mai l'occasione per tacere, anche stavolta, come ogni anno, fa sempre le sue solite uscite infelici, appunto in funzione sempre del rinnovo, è sempre una questione di soldi per il rinnovo comunque di suo marito, il rinnovo del contratto di suo marito, che è giustissimo rinnovare il contratto, perché comunque il Maurito ce lo dobbiamo tenere stretto e bisogna assolutamente rinnovare il contratto, però lei interviene e si intruppola nelle cose che comunque dovrebbe stare fuori, perché pensa di avere il diritto di dire tutto quello che gli passa per la testa, invece non puoi farlo. Quindi Mauro, per l'amor di Dio, l'incontratto di Mauro è da rinnovare, Mauro deve rimanere con noi, perché comunque è un grande campione, un grande giocatore, deve restare a lenta. Vandanara sarebbe forse ora che tacesse un po' e che non intervenisse sempre con i suoi interventi fuori luogo e a sproposito. Infatti lei ha tirato in ballo ancora la Juve, la vecchia, il discorso che la Juve aveva già, che lui doveva andare alla Juve, Riccardi, un po' per mettere del pepe, per cercare di stabilizzare come al solito l'ambiente interista e un po' per metterci a riuscita, perché comunque ci sono state un paio di dichiarazioni, una di ausilio, che lui ha negato il fatto di un accordo, del famoso accordo, se ricordate bene col Pipit, di quello scambio, quell'ipotetico scambio di cui si parlava circa un anno fa col Pipit, ha negato questa ipotesi e poi dopo c'è stata l'altra dichiarazione di Beppe Marotta, che ha detto la stessa cosa che ho detto io, nel senso che poteva fare silenzio, poteva tacere invece di dire queste cose, ma alla Nara, e poi comunque ha precisato che quando lui era alla Juve, lui non ha parlato di uno scambio con i Wayne, però ha precisato che quando lui lavorava per la Juve, era stato fatto un sondaggio sui cardi, perché comunque l'intenzione di acquistare i cardi c'era, quindi un po' di vero, magari in un fondo di verità ci può anche essere, però per il discorso scambio di Wayne c'è un grande punto interrogativo, perché i giornali ne parlarono in modo sibillino, se voi vi ricordate bene, parlare come una cosa reale, realistica, che comunque invece a mio parere potrebbero essere state anche chiacchiere da bar e comunque i soliti diciamo di Toloni per far vendere i giornali dei soliti giornalai nostrani, che non fanno altro che giornalai non giornalisti, giornalai nostrani, con tutto il rispetto per i giornalai veri, che non fanno altro che comunque per l'audience, per avere diciamo, per vendere i giornali non fanno altro che sparare un fracco di cazzata, quindi lì bisogna vedere, per il discorso appunto di, quindi poi anche un'altra cosa che ha detto Marotta è che comunque sì c'era la priorità della sistemazione di Wayne, infatti poi c'è stato poi il discorso nel Milan, dopo è andato a Milan, però sui cardi era stato effettuato solo comunque un sondaggio, perché poteva interessare, ma poi la trattativa non fu, non fu neanche iniziato da quello che dice lui, poi non, non è un seguito alla trattativa e quindi finì tutto lì, ecco. L'altro discorso che volevo fare era il suo Mourinho, Mourinho, notizia appunto di, di ieri o l'altro ieri, adesso o l'altro ieri, di Mourinho che è stato esonerato dal Manchester United, cioè inizialmente sarebbe stato esonerato, poi dopo è venuto fuori un comunicato della società che avrebbe detto che lui si è dimesso, comunque la sostanza è sempre quella, nel senso che comunque è stato, diciamo, licenziato dal Manchester United. I motivi, si è parlato di discrezzi, di incomprensioni a livello, con alcuni dirigenti della società e anche per la poca, diciamo, un po' la ruggine che c'era tra lui e Pogba, sembra che anche il discorso Pogba vi è fluido un po' in questa sua decisione estrema di dimettersi e poi dopo praticamente la notizia è arrivata, si è scatenato il web, sono scatenate soprattutto una parte di tifosi interisti che hanno cominciato a invocarlo, torna a casa Giuseppe, Vieni, Spalletti e Vattene, i soliti discorsi, la solita gente che appena c'è la notizia subito si scatena. Io personalmente sono dell'idea che non è il caso di richiamare Mourinho perché comunque Mourinho potrebbe essere, non è detto che rappresenti, è stato un grande personaggio, io lo ammiro come interista e lo ricorderò sempre con piacere perché comunque ci ha fatto vincere i tripleti, la Champions League, rimarrà sempre un po' nel mio limbo dei grandi personaggi che hanno fatto grande l'Inter, quindi per l'amore di Dio, io lo rispetto, rimane sempre nel mio cuore Mourinho però penso che non sia, secondo me non funzionerebbe di nuovo Mourinho all'Inter, un po' perché personalmente io proprio per il principio sono convinto che le minestre riscaldate non sempre funzionano e questo comunque un dato di fatto perché si sa che le minestre riscaldate, come è capitato per Mancini, se ricordate bene, anche se le copre praticamente furono per metà anche della società, Mancini e società perché Mancini fu negato comunque, lui chiese alla società alcuni elementi, alcuni giocatori, la società non ha consentì e quindi comunque per il fallimento di Mancini, del ritorno di Mancini fu un fallimento comunque diviso tra lui e la società, quindi condiviso con la società, non solo del torno. E poi perché comunque io voglio continuare a dare fiducia a Spalletti perché comunque siamo ancora in piena linea con i nostri obiettivi stagionali, purtroppo la Champions League è andata a finire come è andata a finire, anche se non era propriamente un obiettivo perché non eravamo, non siamo squadra da arrivare fino in fondo alla Champions League, siamo una squadra, siamo una buona squadra che si può benissimo, se la può giocare in Europa League, sono convinto che questa Inter può arrivare fino in fondo in Europa League, ma per una competizione come la Champions, siamo una squadra, non siamo abbastanza competitivi, appunto per questo a gennaio comunque dobbiamo, Zang e compagnia bella, insomma, devo mettere la mano sulla coscienza e soprattutto sul portafoglio e rinforzarci la squadra e comprare degli elementi, perché così comunque questa Inter non è abbastanza competitiva anche per raggiungere certi obiettivi e poi non è ancora del livello del Napoli, quindi Napoli che, il nostro problema soprattutto comunque riguarda soprattutto la panchina, abbiamo una panchina corta e comunque non abbiamo dei rincalzi secondo me all'altezza che possono sostituire i titolari e poi comunque avremo bisogno di un paio di top player, meno un leader a centro capo e anche un altro giocatore magari sulla fascia, comunque abbiamo bisogno di un paio di giocatori. Niente, questo è quello che penso io, quindi comunque Spalletti io voglio continuare a dargli fiducia, perché comunque Spalletti, al di là degli errori che ha commesso in certi cambi, in certe formazioni, umanamente parlando, nel senso che non è l'unico che comunque commette errori, perché le cazzate penso che l'abbiano fatte anche dei allenatori anche più bravi di Spalletti, non sarà il top, diciamo, Spalletti, del top degli allenatori vincenti che sono in circolazione, ma non lo giudico neanche l'ultima ruota del carro, quindi non è neanche l'ultimo arrivato, quindi comunque è un allenatore preparato, è un allenatore che ha delle conoscenze calcistiche, è un allenatore che comunque le sue squadre le ha sempre portate in Champions League, ha vinto qualche trofeo magari minore, tipo la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, con la Roma, però comunque è un allenatore che fino a questo momento io personalmente non lo cambierei, poi a parte che sarebbe deleterio cambiare un allenatore durante appunto la stagione, perché lo sappiamo per esperienza, è stato un periodo, in periodi famosi dove c'è stato tutto questo seguirsi gli allenatori, le cose non è che sono migliorate alla fine, quindi io direi che di questo tasto allenatore magari sarà meglio affrontarlo a giugno, a stagione conclusa, quando poi tireremo le somme e vediamo un attimino dove siamo, dove non siamo, se abbiamo avuto qualche trofeo, se siamo, dove siamo arrivati, eccetera, eccetera. Niente, io ho detto quello che volevo appunto dirvi, ho detto la mia opinione su questi argomenti, abbiamo parlato di Europa League, noi ragazzi ci vediamo prima di sabato per il mio video su Chievo Inter, e sabato giocheremo a Verona contro il Chievo in campionato, farò un video appunto su pre-partite, parlando della formazione, parlando magari anche tirando fuori qualche dato statistico sulla sfida appunto di sabato. e un'ultima cosa, io vi avevo pronunciato nei video precedenti che avrei fatto un video, una live su Chievo 19, magari sulla partita proprio Chievo Inter, una live giocata da me, magari appunto per fare qualcosa di diverso insieme, non so se riuscirò a farla per questione di tempo, al limite se non ce la farò rimanderemo alla prossima di campionato che sarà contro il Napoli, il match club contro il Napoli a San Siro del 26 dicembre di Santo Stefano, dove appunto sarà l'ultima partita dell'anno solare per l'Inter, per la nostra Inter, e se riuscirò a farò il video appunto, questa live la farò appunto per l'Inter Napoli, quindi giocherò in Inter Napoli anziché Chievo Inter. Io vi saluto, vi auguro la buonanotte, grazie per avermi seguito, mi raccomando continuate a seguirmi, mettete il like sul video, iscrivetevi soprattutto, e niente, noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una buonanotte, un bacione da Paolo Inter, sempre amala e forza Inter, ciao a tutti, buonanotte, ciao ragazzi.